a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del Tg giorno di oggi martedì 11 giugno 2024 come dicevamo in sede di presentazione è il giorno dopo la tornata elettorale dunque andiamo un po' a riepilogare tutto quanto è successo ieri la lunga diretta su noi tv partiamo da quello che era il comune sicuramente più atteso e che ha espresso un nuovo sindaco partiamo da capannori è arrivato al comitato elettorale di via pesciatina in bicicletta dove è subito scoppiata la festa un rito che si rinnova aveva fatto lo stesso cinque anni fa luca menesini con una vittoria schiacciante che si è delineata fin dalle prime schede giordano del chiaro è il nuovo sindaco di capannori il delfino di menesini ha sbaragliato il campo mantenendosi fin dalle prime sezioni scrutinate sopra una percentuale che ha subito tracciato la strada verso una vittoria al primo turno con 33 sezioni su 52 il vantaggio è di oltre il 62 per cento contro il 33 del candidato di centrodestra paolo rontani poco più del 4 per cento per la candidata di capannori popolare nicoletta gini è la quinta volta di fila che nel comune più grande della piana vince un governo di centrosinistra un risultato straordinario davvero una fiducia senza precedenti grazie a tutti i capannoresi che hanno creduto in noi creduto nel nel nostro progetto la promessa è che daremo tutto noi stessi per realizzare i tanti impegni che ci siamo presi e per convincere rispetto al agli obiettivi che abbiamo anche le tante persone che non sono andate a votare ma che rappresenteremo con forza e che speriamo ecco che facciano parte per i prossimi anni del progetto di capannori e la scarsa affluenza al voto indiscutibilmente ne abbiamo parlato anche ieri è un altro tasto dolente ancora una volta molte conferme ad esempio secondo mandato a barga per caterina campani che con la sua lista viviamo barga battuto lucia morelli di fare barga e francesco feniello di progetto comune la sentiamo sono stati anni complicati duri c'è ancora tanta energia tanta voglia di fare quindi da domattina testa bassa lavorare e ovviamente ci sarò per tutti ringrazio davvero tutti coloro che mi hanno supportato a partire dai candidati che si sono spesi tantissimo sul territorio cercando di raggiungere più persone possibile parlando con tutti e ovviamente tutto il supporto che abbiamo avuto davvero da tanta gente tante donne tanti uomini che hanno dimostrato l'attaccamento l'affetto e di credere e di credere in noi vittoria netta anche per il sindaco uscente di castelnuovo garfagnana andrea tagliasacchi con l'80,5 per cento dei voti niente da fare per erena picchetti di castelnuovo per tutti che si è fermata al 19,4 sentiamo anche tagliasacchi sì un bel segnale un'affermazione importante che incoraggia perché questo è fondamentale incoraggia perché vuol dire che i cittadini hanno capito che c'è una consapevolezza importante che castelnuovo è un punto di svolta e tutti insieme possiamo guardare al futuro con speranza e con ottimismo è chiaro che sapere che c'è questo consenso dei cittadini è una spinta per tutti importante anche un'assunzione di responsabilità ulteriore ma anche una cosa veramente bella una grandissima soddisfazione ecco un risultato che è netto su tutte e cinque le sezioni hai di fatto quadruplicato i voti di Elena Picchetti l'altra lista che ambiva la poltrona quindi un segnale deciso e chiaro che arriva dalle frazioni e dal capoluogo sì come dicevo è un segnale soprattutto di consapevolezza dei cittadini è una cosa molto bella la soddisfazione più importante che un sindaco può avere mi permetto comunque di esprimere il mio sentimento di rispetto anche per l'avversaria che comunque ho avuto il coraggio di metterci la faccia e secondo me questo è un segnale comunque positivo e voglio riconoscere anche questo aspetto ecco con un grande senso di rispetto a borgamozzano terzo mandato per patrizia andreucetti di ancora insieme missione domani che si conferma appunto sindaco e batte indro marchi di si cambia 18 frazioni in comune cipriano paolinelli di futuro concreto andreucetti vuol dire le tre vittorie consecutive la bellezza appunto di stare ancora insieme e è un modo per per ringraziare ecco la la popolazione eh che ci ha sostenuto abbiamo vinto quasi in tutti i seggi una vittoria anche difficilmente pronosticabile alla vigilia nei termini ecco e quindi insomma siamo veramente contenti assolutamente ecco 14 sono i seggi del comune di borgamozzano quindi le sezioni eh 13 su 14 eh la vostra lista ha preso la maggioranza questo vuol dire anche un mandato omogeneo del territorio sì assolutamente sì il territorio ci ha sostenuto nel suo insieme abbiamo vinto pressoché ovunque nell'unico seggio dove abbiamo perso abbiamo perso di poco e quindi c'è un un mandato forte che ci viene dato per continuare con i modi di governo di questi anni una novità una conferma e un ritorno per le elezioni dei sindaci nella piana di lucca marzia bassini è il nuovo sindaco di monte carlo vice sindaco uscente e sostenuta dal centrodestra con il 61 per cento dei voti ha superato nettamente alle elezioni il candidato del centro sinistra francesco capocchi che si è fermato al 39 per cento marzia bassini è stata la vice del primo cittadino federico carrara che dopo i suoi cinque anni di mandato ha deciso di non ricandidarsi ci metteremo subito al lavoro per tutti i cittadini di monte carlo ha detto a caldo promettendo continuità ed innovazione rispetto al precedente mandato a pescaglia conferma secondo pronostico per il sindaco uscente andrea bonfanti centro sinistra che sfiora il 63 per cento delle preferenze lasciando al 37 per cento il suo competitor pietro tosi sostenuto dal centrodestra bonfanti è al suo terzo mandato da primo cittadino a villa basilica è stata una battaglia l'ultimo voto la spuntata con il 36 per cento delle preferenze il vice sindaco uscente giordano ballini segretario provinciale di azione che ha superato di soli dieci voti il candidato sostenuto dal centrodestra andrea pelosi terza con il 28 per cento la candidata del centro sinistra camilla corti per ballini è il quarto mandato da sindaco in versilia in questa tornata elettorale c'era un solo comune dove si è votato quello di stazzema con oltre il 77 per cento delle preferenze maurizio verona è stato confermato sindaco del comune di stazzema per verona si tratta del terzo mandato consecutivo la sua lista impegno per stazzema ha superato quella dello sfidante baldino stagi presentata a poche ore dalla chiusura delle liste quando ormai si pensava ad una candidatura unica che doveva scontrarsi solo con il superamento del quorum del 40 per cento quorum superato di poco comunque perché il dato finale per le comunali a stazzema è stato quello del 42,6 per cento degli eventi diritto anche se qua molti degli inseriti nelle liste degli elettori sono residenti all'estero e quindi il dato risulta falsato soddisfazione per il risultato ottenuto da parte del primo cittadino un consenso importante ampio che ci dà autorevolezza e forza per governare questi cinque anni con una squadra parzialmente rinnovata composta anche da persone che già erano nella squadra precedentemente quindi dobbiamo riprendere da oggi il lavoro il cammino e verona conferma che la squadra sarà subito al lavoro per la realizzazione del progetto della strada di collegamento tra Sant'Anna e Farnocchia. Nella nostra lunga diretta elettorale di ieri pomeriggio abbiamo seguito le vicende anche delle elezioni negli otto comuni della Lunigiana andiamo a riassumere il tutto in questo servizio. Un po' di rugol! Questo risultato è un po' il frutto di questi cinque anni un grande lavoro un grande impegno tantissimi progetti moltissimi finanziamenti e le persone hanno hanno capito lo sforzo che abbiamo fatto e io li ringrazio davvero per questo supporto che ci hanno dato. Abbiamo concretizzato elettoralmente il buon lavoro che è stato fatto nelle ultime due legislature. Andiamo avanti e c'è invece un autentico terremoto per quanto riguarda il Palio dei Mici quindi usciamo dalla vicenda elettorale. È stata annullata la vittoria del ponte poiché il Fantino, usiamo naturalmente più che mai il condizionale, avrebbe usato un pungolo elettrico per spronare il miccio. Vediamo il particolare nel servizio. Terremoto al Palio dei Mici di Querceta. La commissione etica ha infatti annullato la vittoria della contrada del ponte, ribaltando quanto deciso nelle scorse settimane dalla commissione tecnica della Proloco di Querceta, che aveva analizzato i filmati dopo la denuncia da parte delle altre contrade di irregolarità da parte del Fantino Augusto Vargiolu, senza però pronunciarsi in merito. Ma l'analisi dei filmati, anche amatoriali della corsa, hanno convinto la commissione etica a prendere una decisione opposta, anche alla luce della dura replica delle contrade, che avevano annunciato la rinuncia alla partecipazione a qualsiasi manifestazione organizzata dalla Proloco. E il pugno della commissione etica è stato particolarmente duro. Dieci anni di inibizione al Fantino, reo di aver usato un pungolo per spronare il miccio, pratica severamente vietata dal regolamento e quattro anni di inibizione a ricoprire cariche nelle manifestazioni del Palio dei Mici, al presidente della contrada, Francesco Sarti. Un terremoto, come detto, che sicuramente avrà strascichi importanti nei prossimi giorni. Beh, comunque la si veda una vicenda sicuramente antipatica. Si chiude qui la prima parte del Tg Giorno. Linea alla regia e subito dopo torniamo con le notizie sportive.